Ieri sera sono state dette due cose che non sono vere. La prima, l'insinuazione delle regioni che non collaborano. La mia regione, se lo dici nel mucchio, non mi va bene. Puoi dire alcune regioni, allora bene. Ma siccome ho detto, le regioni non collaborano, noi abbiamo sempre mandato tutti i dati che ci sono stati richiesti. Il Veneto non ha nulla da rimproverarsi. Due, peggio ancora quando è stato detto, è stato fatto accenno alla Cassa Integrazione. La Cassa Integrazione per noi è ok, ve l'abbiamo detto anche ieri. Il problema è un tema. Ma ripeto, io non voglio cercare contrapposizioni. Lo dico perché se tu mi chiami in ballo, mi tiri in ballo, devo rispondere. La Cassa Integrazione in Veneto non è che non sta arrivando per colpa della regione. La regione si ha fatto gli accordi con le banche e tutto. Le banche si dicono, aspettano, lo chiede il governo. Punto. Questa è la versione ufficiale, vi basta? Quindi non puoi dire in tv, è perché le regioni. Ma le regioni cosa? Non sa mica la Repubblica del Banane qua in Veneto. L'emergenza sanitaria c'è e l'allerta continuerà ad esserci altissima anche nei prossimi mesi. Ma occorre un diverso approccio. Occorre che la politica si prenda le proprie responsabilità. Il presidente Zaia lo ripete spesso. Dopo l'ultimo decreto del governo, la nuova ordinanza della regione è stata decisa perché occorre un cambio di passo, un segnale forte di fronte al sacrificio di chi è a casa e con l'attività chiusa da due mesi, di fronte ad una recessione economica del Veneto che significa in fondo recessione economica dell'intero paese. Vedo che dicono che è sconfino. Ma cosa vuol dire sconfino? Ma cosa vuol dire? Chi qua ha sconfinato? Il governo che ha sollevato le regioni? Cioè, come si può dire? E noi lo abbiamo accettato nel senso che con grande senso di responsabilità, assieme ai colleghi del regione, c'è un'emergenza, il governo si faccia regista in tutta questa partita. E poi qualcuno viene a dire che è sconfino. Ma sconfino che? La nuova ordinanza regionale non vuole essere polemica nei confronti della comunità scientifica, dice Zaia. Anzi, tutte le misure precauzionali, compreso l'obbligo dei dispositivi di protezione personale e il divieto di assembramenti, sono sacrosante e confermate in pieno. Né in un momento grave come questo, la nuova ordinanza regionale vorrebbe alimentare polemiche col governo. Ma la critica politica sull'ultimo provvedimento dell'esecutivo è evidente. Veramente l'appello che faccio io è che si rivedano queste misure. Ma guardate, non lo faccio per dire che bisogna stare dalla parte di chi fa casino. No, no, io penso che la violenza non serva a nulla. Però penso anche che se c'è questo sistema migliore per alimentare il conflitto sociale. Io vedo persone disperate. No, no, io penso che la violenza non serva a nulla. No, io penso che la violenza non serva a nulla.